Intanto cerchiamo di mettere i puntini sul dei, il governo della regione si è difeso, purtroppo mancando il dialogo, perché non noi, ma il governo nazionale, i ministri dell'economia e delle infrastrutture hanno unilateralmente, senza avere la correttezza istituzionale di informarci, decretato di sottrarre al nostro consorzio autostradale la gestione delle autostrade, peraltro finanziate anche con nostri soldi e che comunque si ritrovano sul territorio siciliano e che vengono usate prevalentemente dai siciliani. Noi abbiamo dovuto ricorrere al tribunale amministrativo, purtroppo, come dire, questo è deprimente, ma siamo stati costretti, in mancanza di dialogo, per difenderci dallo Stato ci rivolgiamo al tribunale, lo ha fatto anche la Ferrovia Circomettennea che era stata commissariata e anche lì il governo ha dovuto subire questo smacco, quello cioè che il Tarra ha condannato con le sue ordinanze il governo a fare un bellissimo passo indietro. E allora cosa dico? Una volta che noi abbiamo avuto ragione, con molto buon senso ho incontrato il Presidente dell'ANAS e il Ministro delle Infrastrutture e cioè il Dottor Ciucci e il Ministro Matteoli ieri mattina all'aeroporto di Palermo proponendo che si faccia una gestione comune tra ANAS e consorzio autostrade, perché tutte le autostrade siciliane vengono gestite insieme e si decida insieme come organizzarsi con i pedaggi, non è pensabile che da noi si paghi lo stesso pedaggio che in Lombardia, sono autostrade diverse, è un'economia diversa e quindi anche lì dobbiamo tenere gli occhi aperti. Poi c'è da affrontare il problema del completamento delle autostrade siciliane, l'anello autostradale. L'ANAS si sente più brava, per la verità io non vedo che le autostrade gestite dall'ANAS, metti la Catania a Palermo, sono in condizioni migliori che non la Catania Messina che è gestita dal consorzio autostrade, questo tanto per essere chiari. C'è un tratto dalle parti della provincia di Caltanisset che per metà è chiuso al traffico, non so se da 5-10 anni, non so se quei piloni che lo sostengono sono a rischio di crollo, spero di no, ma fatto sta che l'ANAS non ha fatto granché per sistemare quelle cose. E comunque l'ANAS certamente è un'azienda di grande rilievo, per cui insieme possiamo gestire questo patrimonio autostradale che ripeto è dei siciliani e della Sicilia. Dopodiché se vogliono esprimere la gestione, l'amministratore delegato piuttosto che il Presidente, noi siamo aperti. L'interessante è che noi possiamo esercitare quel controllo e quella vigilanza nell'interesse del nostro popolo siciliano e della nostra isola. Grazie. Grazie.